Ognuno ha la sua strada, solo la sua, con i suoi tempi e i suoi percorsi. Questa è la frase di copertina dell'Agenda della Felicità 2020 che Dizionierizza ha realizzato con i testi di Raffaele Morelli e con i bellissimi disegni di Alberto Ruggeri. Le parole, la saggezza di Raffaele Morelli ci accompagnano mese per mese e settimana per settimana ricordandoci che mentre segniamo tutti i nostri appuntamenti dobbiamo sempre mettere al centro della nostra quotidianità anche il nostro benessere e la nostra armonia interiore. Questa agenda che è stata distribuita con Rizzo Psicosomatica nel mese di novembre è andata esaurita, è stato veramente un successo editoriale per la nostra casa editrice e per questo moltissimi lettori ci hanno scritto o telefonato per sapere se c'era ancora la possibilità di averla. La risposta è sì, la possibilità c'è. Potete fare questo, telefonarci allo 02 58 45 96 21 oppure andare sul sito di Riza che è www.riza.it ordinandola direttamente lì. L'altra possibilità è quella di riceverla in dono, come? Abbonandosi a una delle nostre riviste. Regalare un abbonamento a Natale ci permette di essere ricordati tutto l'anno, che significa augurare a una persona amica, a una persona amata un anno di serenità, vuol dire respirare saggezza, vuol dire rappresentare la cultura. Vi ringrazio. Grazie. Grazie.